gobby gobbe buongiorno video post partita lo faccio al mattino perché se l'avessi fatto ieri sera non mi sarei non mi sarei riuscito a contenere però anche questa mattina sono incarognito proprio e ho bisogno di dire un paio di robe perché perché sono incarognito poi come sempre fatemi sapere se io sono esagerato secondo il vostro punto di vista fatemi sapere se voi avete visto una partita diversa e poi nel caso serviva scrivete anche il canale allora ragazzi io credo che se qualcuno dall'estero ieri avesse detto dai guardiamo la semifinale di coppa italia che è il derby d'italia due scuole le due squadre più più vincenti in italia con tante aspettative guardando la partita avrà pensato ma queste squadre di che categoria sono perché io credo che una partita così obrobriosa forse boh forse mi vengono in mente che ne so italia svezia quando siamo andati fuori dal mondiale una roba ragazzi una partita inguardabile inguardabile due squadre speculari piantate lì chiuse senza idee offensive boh io per me questo ti fa capire il livello del campionato italiano detto questo parliamo della juve perché ma di parlare dell'inter proprio anzi l'unica cosa che dico dell'inter è che secondo me in zaghi va aiutato perché ha dei problemi perché uno che va davanti alle telecamere e dice e dice che hanno dominato la partita e che lukaku è stato espulso per niente perché è stato mal interpretato ha dei problemi ha dei problemi perché dominato io ieri non ho visto nessuno che ha dominato la partita e dire che lukaku è stato espulso per niente vuol dire che o sei cieco completo sei malafede totale perché lukaku al di là dell'esultanza che non lo so se esulta sempre così uno che va sotto la curva fa il segno di stare zitti e poi dopo inquadrato dalle telecamere si vede che dice muto muto perché non sa parlare in italiano ma sicuramente voleva dire muti alla curva e dire che è stato mal interpretato vuol dire che tu hai dei problemi seri oppure sei in malafede e quindi io non neanche voglio parlare di un altro cialtrone del genere come il zaghi veniamo a noi io sono mi sono rotti i coglioni di vedere delle prestazioni così ma proprio non ne posso più io non vedo l'ora che sia luglio che spero sia finito tutto quello che riguarda l'extracampo e spero che sia finita questa juve perché come ha detto l'apo l'altro giorno che bello il milan quanto mi piacerebbe vedere la juve giocare così ecco esatto io voglio vedere dall'altra roba non ne posso più di vedere delle prestazioni del genere con i giocatori che ha la juve non è non è accettabile in casa oltretutto davanti allo stadio pieno non è accettabile non abbia andato un tiro in porta tutto a caso vlaovic e di maria sono incazzati quando sono scesi ma per forza ragazzi ma voi lì ci potete vedere anche benzema e alant ma come se come fanno gli attaccanti con un contesto di fase offensiva del genere ma come fanno ma vlaovic io non riesco a giudicarlo io non riesco a giudicarlo vlaovic io lo voglio vedere in un altro contesto perché come fai a giudicare un attaccante in quelle condizioni lì ama mille che appena entrato ha avuto una palla colo capito è stato un caso perché un tiro sbagliato lui era lì e ha sbagliato il gol ma non c'è una costruzione che mette l'attaccante in condizione di poter fare l'attaccante vlaovic cosa ha fatto due cross due cross tra l'altro non semplici perché uno era molto indietro l'altro era troppo avanti quindi non è neanche da dire che ha sbagliato a impattarla perché erano dei cross che erano difficili non era nella posizione in cui avrebbe potuto impattarla correttamente quindi di cosa stiamo parlando come facciamo giudicare vlaovic che non c'è una fase offensiva poi io avrei messo un'altra attacca io avrei messo chiesa ad esempio avrei tirato giù boh kostic forse oppure avrei tirato giù come hai tirato giù fagioli e avrei lasciato a metà campo avrei fatto stringere costic o quadrado fargli fare la mezzala invece ancora lo stesso lo stesso approccio alla partita dove dove noi stiamo lì a speculare sul risultato stiamo lì aspettando il bello che allegri lo sa che la strategia è quella lì cioè la sceglie perché lo sa che prima o poi qualcosa succede infatti l'avevi indovinata anche ieri però qual è il problema che tu così sei sempre vincolato agli episodi e questo ormai l'ho detto mille volte tu sei vincolato agli episodi giocando in questo modo sei vincolato agli episodi a volte gli episodi ti girano bene a volte ti girano male ieri ti hai girato male perché alla fine l'hai pareggiata ma voglio dire nel momento in cui segni e ti rintani là dietro come sempre come sempre ti rintani là dietro te li porti in area cioè ti può succedere qualcosa un tocco di mano un pestone una roba può succedere perché te li porti dentro in più oltretutto uno dice alla fine eravamo stanchi ce li siamo portati dentro perché eravamo stanchi ma stanchi di che? che abbiamo fatto una prestazione che non abbiamo fatto mai un'azione offensiva intensità bassissima perché la palla andava i due all'ora ragazzi per me io non posso più vedere la Juve così poi dopo ieri dopo quando abbiamo fatto gol ormai svegliavo anche la bimba perché ho esultato come sempre perché ci mancherebbe altro cazzo fai gol a dieci minuti dalla fine contro l'Inter in semifinale per forza cioè io amo la Juve per forza come fai però lo dicevo anche con i miei amici cioè non torni indietro di una virgola noi possiamo anche passare il turno però io sono stanco di vedere queste prestazioni cioè non è calcio questo non puoi guardare le partite così queste prestazioni qui ti portano a dire guarda il risultato finale perché almeno almeno non ti incazzi almeno non ti avvilisci guardi il risultato poi se il risultato è positivo godi perché vedi un risultato positivo senza rovinarti il gusto di un risultato positivo con delle prestazioni inguardabili cioè la Juve con i giocatori che ha non può giocare in questo modo dai ragazzi non è possibile ogni tanto ci sta che sei in difficoltà che devi portarla a casa anche in modo sporco ogni tanto ci sta però noi qui siamo a dire che ogni tanto la Juve fa una prestazione decente non è possibile bisogna arrivare in fondo a questa stagione e cambiare perché io non posso più vedere la Juve giocare in questo modo e non me ne frega un cazzo di sentire ma alla fine con questa strategia Allegri spesso le porta a casa perché vinci non me ne frega niente non me ne frega niente io non ho più il gusto di guardare le partite di calcio la Juve in questo modo perché non è solo il gusto di vincere 1 a 0 il gusto di vincere 1 a 0 così che sei legato agli episodi appunto io non ce la faccio più cioè proprio non è una scelta non è che dici vabbè tu hai deciso che le cose devono essere in un altro modo e quindi ti sei fissato così ma no è proprio una questione che senti dentro cioè il calcio deve essere anche qualche cosa di piacevole da guardare oltre al risultato cioè noi ma ieri veramente è stata una roba ragazzi ma com'è possibile dire che una partita è stata piacevole ben giocata quando non hai dato un tiro in porta non hai creato una condizione per poter far gol l'unica è stata proprio all'inizio con Di Maria che ha avuto quell'occasione su un contropiede con la palla sul destro lì c'è stata una costruzione di qualcosa il resto tiri calci d'angolo arrivi sul fondo e la metti in mezzo neanche sul fondo fai cross da neanche il fondo perché non ci siamo mai arrivati come si deve quindi è tutto estemporaneo dov'è il gusto di vedere una partita di calcio ragazzi così sono molto avvilito sono molto avvilito adesso aspettiamo il 26 che è molto lontano chissà cosa sarà il 26 oltretutto dovevamo approfittare di un momento in cui l'inter era anche in crisi è anche è non era è perché anche l'inter non ha fatto niente in casa e niente non abbiamo credito la partita nulla di tutto questo fatemi sapere cosa ne pensate io sono veramente avvilito ciao gobby fino alla fine